Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite. Nella giornata di ieri, oltre a vedere le classiche sfide del giovedì, abbiamo potuto ottenere anche la skin segreta insieme al backpack, il piccone e gli stili. Se ancora non sapete come fare le challenge e ottenere queste ricompense, trovate già i video caricati sul canale. È stata una cosa un po' strana perché di norma questi oggetti ce li avrebbero dovuti assegnare nella prossima settimana, ma ormai ce li hanno dati e noi ce li siamo tenuti. Eccoci qui, comunque ci troviamo all'interno della sezione notizie di Fortnite, all'interno ovviamente del sito dell'Epic Games. E come potete vedere abbiamo una novità bella fresca, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Incarico della regina d'autunno, auguri di buone feste dalla regina d'autunno. A partire da giovedì 28 novembre i giocatori del mondo intero potranno collaborare per sbloccare la copertura animata a foglie che cadono nell'incarico community regina d'autunno. Come funziona? Collabora con la community per raggiungere il punteggio obiettivo fino a lunedì 2 dicembre e sbloccare la ricompensa gratuita. Questa qui sarà la nostra mimetica animata totalmente gratuita. Infatti dovremmo partecipare a questo evento live e quindi collaborare con la community per farcela ottenere totalmente gratis. Ma andiamo a vedere come si partecipe e quindi come faremo ad ottenerla. Come partecipare? Qui c'è scritto il regolamento ma io vado su guarda qui, almeno ce lo dai in una maniera più colorata e più fresh. In carico della regina d'autunno, collabora come community per ottenere 2 miliardi 500 milioni di punti e sbloccare la copertura animata a foglie che cadono della regina d'autunno. Ok, poi come ci ha detto prima, terminerà lunedì 2 dicembre alle 2 del mattino, ora italiana. Ma andiamo a vedere come facciamo ad ottenere i punti. Sarà molto semplice, infatti non dovremo fare niente di eccezionale. Per ottenere 2 punti dobbiamo rianimare un compagno, successivamente cura i tuoi alleati con il bazooka band e ci darà un punto per PS curato. Gioca una partita con un amico ben 5 punti e qui abbiamo il tempo residuo che adesso, nel mentre sto registrando questo video, sono 3 giorni, 1 ora e 35 minuti. Qui sotto poi abbiamo la possibilità di vedere un grafico, una barra che appunto ci mostra i punti realizzati fino adesso che sono 195 milioni 52.689 punti. Ovviamente questa barra ogni volta che andremo ad aggiornare la pagina sarà interattiva, infatti andremo a vedere il nuovo punteggio e come potete vedere, no, non è cambiato di niente. Oddio, nessuno sta giocando a Fortnite. Vediamo però se il tempo rimasto si va ad aggiornare sul... no, non si va ad aggiornare, infatti rimangono 3 giorni, 1 ora e 31 minuti, non succede niente. Ah sì, ecco, si è aggiornato adesso, quindi il tempo rimasto è in live, mentre il grafico penso sia un bug. Vediamo, aggiorniamo la pagina, 689... no, questo numero qui non si aggiorna ma sicuramente è buggato. Oppure dobbiamo aspettare che passi qualche minuto, ma penso più che sia un problema relegato alla pagina. Vediamo, ultimo aggiornamento... niente, niente. Comunque riflettendoci, la cifra di 2 miliardi e 500 milioni non è affatto irrisoria, anche se dobbiamo andare semplicemente a completare dei game, a utilizzare una di queste tre funzioni per ottenere dei punti. Quindi si può dire anche giocando senza pensare a questa copertura andremo ad ottenere dei punti, però non so se riusciremo a totalizzare questa cifrona qui, anche perché termina il 2 dicembre per noi alle 2 del mattino. Staremo comunque a vedere nei video di domani e dopodomani, vi terrò aggiornati sulla cifra che otterremo giornalmente. Ma adesso spostiamoci al nuovo shop perché dovrebbero uscire, essendo che oggi è il Black Friday, dei sconti esclusivi all'interno dello shop. Signori, eccoci qui come ogni giorno andiamo a vedere lo nuovo shop... Ma dove sono i bundle? Dove sono i sconti? Mi aspettavo di trovare dei bundle che vi avevo mostrato nella live della patch, infatti ci sono 4 bundle disponibili, probabilmente li metteranno nel corso della giornata anche se il nuovo shop si aggiorna tra 23 ore. A questo punto penso proprio che li vedremo lunedì con il Cyber Monday. Comunque andiamo a vederci, la novità è una maxi follettina creation, eccola qui, 800 V-Bucks per lei. Skin, che vi devo dire, natalizia? La prima skin vera e propria natalizia a questo punto all'interno dello shop. E lei da 800 folletta... Cosa? Prima apparizione stagione 7? Non è nuova? Regà, vi giuro, non l'ho mai vista. Infatti come ci può indicare anche il titolo è di nuovo qui, per me era nuova. Perciò sorry per questa gaff, vediamo la regina d'autunno, skin da 1200 V-Bucks, li vale tutti quanti, questo è il suo backpack, è un mantello autunnale, bomba di skin, 1200 V-Bucks per lei. Proseguiamo con lo strumento di raccolta, questo set è già uscito ieri all'interno del negozio oggetti, andiamo a sentire il suo sound. Duro, tosto, vorace, 800 V-Bucks per lui. Proseguiamo, eccola qui, piaga il set, la skin dei medici, questa qui sarà in versione femminile, ci verrà rilasciata con questo backpack che ci sta la grande sulla skin segreta con questa tonalità del verde. Eccola qui comunque, 1500 V-Bucks per lei. E ovviamente troviamo anche Infestazione, la controparte maschile. Anche qui avremo un backpack, il mantello tetro, che ci sta anche bene su questa skin segreta in versione verde, nella versione nello stile green. 1500 V-Bucks dove si è andato per lui. Proseguiamo con lo strumento di raccolta che ha fatto la sua prima apparizione nella stagione 6, andiamo a sentire il suo sound. Sembra la spada di Zorro, 800 V-Bucks per lui. E concludiamo il set con Lanterna. Ecco qui il deltaplano, gli andiamo a sentire il suo schieramento. Fresh, 800 V-Bucks per lui. Siamo già arrivati agli oggetti giornalieri per oggi, abbiamo Bucaniera, questa skin che è uscita, abbiamo visto la sua prima release nella stagione 8. Come abbiamo potuto vedere ha due stili, ora non cambia più lo stile, lo andiamo a prendere qui. Ecco qui, questo è il primo stile e questo è il secondo stile senza benda dei pirati. Ci verrà fornito con questo backpack, anche qui abbiamo due stili, eccolo, è cambiato. 1200 V-Bucks per lei. Proseguiamo con la prima emote d'orso. Non è un emote attraversamento sto vedendo, peccato perché sarebbe stato molto figo vedere in game gente come un granchio, cioè camminando all'indietro, che andava in giro con questa emote e dava le spalle ai nemici. 500 V-Bucks per lei. Troviamo Wella, l'Asia Vendetta, bomba di skin, anche questa, bellissima questa skin. Guardate che colori, guardate che combinazioni, guardate che tonalità, bomba di skin. Ci verrà fornito con questo backpack, che il backpack non è niente di eccezionale, anche se riprende tutti i colori presenti all'interno della skin. 1200 V-Bucks per lei. Proseguiamo con la fila sottostante gli oggetti giornalini di oggi, troviamo un emote carina, cannocchiale. Best emote combo con pesce secco, ci sta davvero bene. Non male, 500 V-Bucks per lei. Proseguiamo con una copertura emozionale. Bomba di copertura, io adoro questa copertura, perché mi piace tantissimo la schermata di caricamento a cui si sono affidati, appunto, per creare questa copertura. 300 V-Bucks per lei. E concludiamo lo shop di oggi con un emote piagnistei. Sorry, ma non ti volevo chillare. 200 V-Bucks per lei. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel like. Non vi scordate mai il supporto a un creatore all'interno dello shop. Rasco, trattino basso, OMG. Il supporto a un creatore più fresco del centro d'Italia. Condividete questo video con tutti i vostri amici. Andateci piano oggi, che è il Black Friday. Non vi sciupate tutti i soldi. Iscrivetevi al canale, attivate le campanelle notifiche. E scrivetemi qua sotto nei commenti cosa avete comprato e cosa vorreste comprare, ma non avete abbastanza soldi per poterla comprare. Noi ci vediamo più tardi con il video che uscirà alle 13 e 15 e questa sera con la live. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e le belle messe amiche.